Bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale in questo nuovo video di Ark Survival Evolve. Oggi vi mostrerò i nuovi progressi fatti alla nostra casa ed in più temeremo uno spinosauro purtroppo già ducchiato da un mio iscritto. Ricordo che il video è inestrato dalla live stream fatta sul mio canale Twitch e per giocare sul mio server di Ark unitevi al mio server Discord. Entrambi i link li troverete in descrizione e nel primo commento. E se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. Detto questo vi lascio al video. Bella ragazzi e bella lì. Come vedete ragazzi sono cambiate un po' di cose. La casa e le mura sono rimaste quelle e poi dopo le faremo ben bene in live tranquillamente. Ricordo per chi vuole che il server è aperto a chiunque. Trovate tutte le info per unirvi se volete giocare con noi su Discord. Fate appunto escomativo Discord il comando in chat per avere il link d'invito. E ricordo chi è sub ha anche il pacchetto aderito al pacchetto di benvenuto all'interno del server per aiutare un po' a macinare. Allora come vedete già ho pelliccia addosso che poi toto questa te la faccio vedere perché tu sicuramente non ce l'hai. Cappelli e barba by Vikings molto ficcante. Poi in tutto questo perché questi giorni ho giocato qua stavano andando le cose che mi ha fatto il bio. C'è un sacco di carne di pesci cotta ma a profusione proprio. Poi sono cambiate un po' le bestie all'interno. Un po' di più. Perché a parte la serrina che mi ho messo e poi ho capito dopo come funziona. Sono andato un po' avanti con i macchinari. Abbiamo un barionice o barionice? Barionix. Che poi ho capito col tasto C fuori dall'acqua fa questo verso. Non ho ben capito cosa serva. Poi abbiamo l'Andrew che è qualcosa di bellissimo. Non è quello che gira il barionix. Dovebbe essere quello che afferra le persone. Fra ferra. Ah sì? Ah forse è quello allora. Abbiamo uno stegosauro. Tech. Perché? Perché sì. Perché era veramente molto ficcante. Mi piaceva un sacco. Tricerato un po' classico. Quello ragazzi c'era già. Come l'optero. Abbiamo ben due argentavis. Ora. Questo mio principale è questo qua. Il secondo che ho preso. Che magari se qualcuno servisse sul server lo scambio per materie. Perché era lì che mi girava. Mi piaceva il colore. Ho detto lo prendo. Quindi in frattempo lo sto livellando. È il 126. Quindi se qualcuno è interessato. Me lo faccio sapere. Solito ptero. Che è lui poverino. Dimenticato. Ma dove l'hai messa la casa? Eh? Ma l'hai messa tu la casa? Non la trovo. È sempre il solito posto. Sempre lì. Dove oggi. Quello per l'unicorno. Perché oggi. Mi ha esponato un unicorno vicino a casa. E ho chiamato Fede. Deve la prendere. No. Cacchio. Solito raptor. Abbiamo. Che gli aumento il vigore. E poi. Anche il osauro. Ovviamente per farmare il metallo. Come ben sapete. E fuori casa. Loro due. E che non la sto trovando. T-Rexone e U-T-Ranno. U-T-Ranno perché? Perché non volevo prenderlo durante una live. Ma avevo un sacco di carne prime. Che mi andava male. Ho detto. Minchia. C'è gente che muore di fame. Perché? Allora ho preso un U-T-Ranno. Perché sì. Non volevo che venisse sprecata della carne. E quindi abbiamo ancora U-T-Ranno. Che poi deve anche livellare U-T-Ranno. U-T-Ranno per la sua abilità. Cosa bisogna livellare? Niente. Fondamentalmente. Giusto? Fè? C'è uno sbaglio. Che gli aumento. Boh. Il danno. Il danno. Riturando danno, fame e vita. E il T-Rexone. Che ormai siamo al 300 e passa di danno. E diamo un po' di vigore. Quando sei chiamato Sermatex 90? Come no? Come mi son chiamato? Forse. Sermatex 90? Sì. Con essa maiuscola. Perché non mi ci porto? Ci sarà qualche T-Rex qui in giro? Vuoi che ti porto con me? No, 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 no. Anche perché vado a vedere quanto ferro c'ho. Vai. Ok. O intanto io parlo. Rimani qui con me così a me facciamo due chiacchiere. Mi fai compagnia mentre dovrò volare non so quanto. Io vado a vedere se ho fatto. l'ascensore. Il famoso ascensore che va avanti da ormai una settimana? No, perché il pilastro è fatto. Manca la piattaforma. Ah, manca la piattaforma? Eh, vabbè, allora dai. Quanto ti manca, quindi? Non tanto. Solo che smaltisca il ferro. Però, su Ark, ragazzi, il segreto... Cioè, il segreto non è il segreto. Per mia esperienza, vediamola così. Si muore sempre all'inizio. Quando si muore, non dimordete. Vedete che pale, sono morto, chiudo. Perché quello è quel momento in cui dopo non giocate più. Perché dopo uno inizia sempre a giocare, muore sempre, si stanca. Non dovete demordere. Dovete continuare. Perché una volta che vi piazzate, avete già il primo volatile, è tutto in discesa, ragazzi. È tutto in discesa. Come adesso, adesso c'ho due bei carnivori, c'ho l'argentavis, sono chiuso, non passa più niente. E vivi tranquillo, vivi. E te lo godi. Purtroppo, ragazzi, è così, Ark. All'inizio devi morire. Per forza. Cioè, non c'è... Anche dopo, eh? Uno spinosauro! Bene! Bene! Anche dopo che ti piazza iniziamo... Al 71, ma è sti cazzi mio! Mio! Lo cercavano anche vinco! Piattaforma... Ecco la corona. Speriamo di non uccidere con la balestra. Speriamo che non ci venga a prendere, soprattutto. Non ci sia altro. Perché lo spinosauro non ce l'ho. Giusto, giusto, guarda. È perché si sblocca dopo, molto dopo. Si sblocca molto dopo, lo spinosauro. In che senso? Dalla sua sella, sì. Ah, la sua sella, no! Dico proprio a spunare. La sua sella, la sblocchi al... Aspetta... Sì, ma lui è stronzo, è velocissimo. Ah, al 70? Ah, beh, al 71 ci sono. Tanti fammi mettermi per avvicinare a Gentiles, perché non è che mi fido più di te. Mettiamo sta piattaforma, sperando che sia automatica. Ma è sparito? È lì che gira. Ma questa è piattaforma enorme. Mi hanno truffato. Tasta B. Ciao, Spino! Tu, vero, che non riesci a salire. Non riesci a salire, vero? Spino, stali fermo. E come la mando giù ora? Mi scusi, vuole andare giù? Non chiedo tanto, una dormitina, una pennichella. Se fa una pennichella sarebbe il top. Addirittura, da quante frecce gli ho tirato, ormai la balestra non sa più se caricare o non caricare. Oh, bene. Nice. Questa è stata che c'è anche un carnotaro qui sotto. Eolica. Speriamo che non mi veda. Allora. Questa cosa che stanno anche marcendo. Ma te c'ho la fucina che lavora da quattro giorni. Scusi, la bolletta e il gas? Gas. È a legna. Sono quattro giorni che va. Ok. Non sto così. Tanto lo Spino ce lo segniamo. Dov'è? Ok. Guarda qua, c'è il Carnotaur che c'ha della Prime. Che livello sei? E al 13. Via. Direttamente con la Argentavis, senza problemi. Line. Per la Prime devo fare con l'ascia, vero? Sempre. La pelle ascia? No, la Prime, la carne Prime. No, picca. La picca, ok. Ecco, gli animali ne fai di più. Ah, cazzo dimmelo, primo. Infatti, carne cruda pregiata. Top. Così ce l'abbiamo anche bella, fresca. Gli animali fanno più risorse, più carne, più cannebreggiata, più metallo. Infatti, questo qua mi è sempre venuto del dubbio, sta cosa, sempre. Sono stupido. I CDR che sono ficcanti, quelli, eh. Cavolo, ti conveniva forse approfittare degli sconti? Intanto ho trovato casa di qualcuno. Ma questo non è il mio Argentavis. Mi scusi. Argentavis? Ah, di panda leggero. Ok, ma perché l'hai lasciato qui? Ma... Ah, ma è qui! Mi scusi! Buongiorno, mi scusi. Non ho visto che era sveglio. Mi scusi. È il signor panda. Non me ne ero accorto. Mi scusi. Oh, tocca correre, là. Tocca correre per lo spino. Ecco qua. Ah, niente, scusi su Xbox. Parla di guardare su Kinguin così, magari. E niente, io ho visto te, praticamente, che c'era un Argentavis con la sella. Ho detto, boh, ma di chi è? Ho visto panda leggero. Ho fatto, boh, magari non c'è, che ne so. E niente, lui era lì che parello stava costruendo. Gli ho invaso casa. Non senza volerlo. Ma chi? Ah, panda leggero. È qui collegato. Era lì che faceva le robe sue, ho visto l'Argentavis e ho detto, ma cazzo, ma questo non è il mio. Ma perché non viene da me quell'Argentavis? Quale? Eh, quello era il tuo. Perché scusa, devi venire da te? All'Argentavis? Scusa, cosa stava facendo? Era per dire che non era tuo. Ah, per quello, ok. Sì, adesso l'ho capito. Eh, Fè, sono un po' rinco, mi scusi. Niente, mi serve un'altra carne a crime. Eh, inizia di una certa, Fè. Adesso mi serve assolutamente carne a crime, che la devo prendere Bronto, però se ne attacco uno si incazzano tutti. Non c'è tipo un T-Rex di livello basso, easy? Un'Alpha. Un'Alpha, un'Alpha easy, sempre, ovviamente. Diplodoco! Questo qua davanti? Sì, da Prime. Me lo dà? Ok. Dovrebbe dare Prime. Proviamo. Che livello è? È il 46. Ah, dovrebbe dare Prime, sì. Adesso lo butto giù, faccio tipo DC Sparta, col diplodoco. Mi scusi, mi serve la sua carne. Potrebbe cortesemente morirci velocemente senza soffrire troppo, eh. Oltretutto non ti fa neanche danno. Eh, ma infatti. A me i diplodoco mi hanno salvato la vita. Mi serveva il cibo, che avevo quasi finito la carne. Un diplodoco inizia a spingermi, inizia, lo uccido, da sola, mani nude. Da lì in poi è andato tutto giù, liscio. Tutto liscio. Ti è sacrificato per un bene superiore. Ok, quasi tutto liscio. Dai, muori, muori. Fatica. Eh, qua si inizia a fuggire. Do fuggi. Grande Grosso, come sei? Fuggi? Manco fosse la Ferrari. Un canone, una Ferrari. In questo momento è un canone senza ruote. Scusi, scusi. Mi ci muoia cortesemente. Che malice, lo spino che ha bisogno di carne. Ma Matteo, tu ti ho fatta le creo capsule, ma perché? Ne ho fatta una. E sai che scade dopo 30 giorni? Sì, lo so, lo so. Sì, sì, no, quello lo so, lo so. Ma mi serviva così per il trasporto? Guarda, se vi serve per il trabù è che mi serve a me con le due. Io sto evitando di farla. Proprio tanto per non lasciarlo senza cibo, che è rimasto senza cibo. Guarda, tac. Giusto, giusto. A quanto gli manca il domesticamento? Eh, non tanto. È al 96. Guarda, gli do. Finisco stesse i narcotici. No, non serve le smozze che è finito. Un salve a lei, buon salve. Se vuole, prenda pure il diplodocco. Là, la carne ce le serve. C'è il spinosauro, guarda. Trovato qui, casualmente, botta di culo ogni tanto. L'hai... È morto, che è successo? No, 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 guarda. L'ha addormentato e lo sto domesticando. Ma io sento quadruplo. Ma perché vi sento in chat locale se sono lontano? Perché con lo shift? Ma davvero? Ma no, guarda, sono passato qui a casa e ho detto Boh, c'è uno spino. Me lo prendo a sto punto che mi mancava. Non so, stavo costruendo una trappolina da quelle parti. Ma te... E mi hai fatto prima tutto. Vabbè. Eh, vabbè. Se vuoi, guarda, il diplodocco, se ti serve la carne, prendila. Che tanto io ho fatto, non mi serve. Quindi se vuoi finire di prendere con la Argentavis, fai pure. Che carino panna. Dimmi. Perché io mi sento qua giù in fondo? È buono, non lo so. A tutte e due? A tutte e due? Eh, non lo so. Ma che cazzo? Prova a parlarti un attimo con B. Uno, due, tre, tre. Te l'hai mutato su Discord? Sì, ero mutato su Discord. Ah, no, t'ho sentito anche io. Eh, non lo so. Eh. Guarda gli stai. Povero panda, vedete, per me stavo cercando lo spino. Salve, buongiorno a lei. Come sta? Sta meglio oggi? Bene, così abbiamo quello spino. Dai, andiamo a casa. Adesso a portarlo, mica perché sono vicino qui. Che panda è l'unico bravo che si è messo vicino a casa mia. To, oggi abbiamo anche del content. Dove essere, vi faccio vedere cosa c'ho oggi. Cosa ho fatto nei giorni. E invece è venuto fuori che anche lo spino mi sono preso. Che vedo che è pesantemente incastrato, oltretutto. Va bene. Penso io. Va tranquillo. Vieni, vieni. Beh, butta giù st'albero, però ci vorrà un po', eh. Vieni. Ah, perché tu non c'hai la motosega? Ops. Che fa? Mi segue? Bene, ci riesce, sì. Ma perché c'ho la motosega e sono andato avanti? Scusami. Non ho capito. Dove la sua guarenda elettrica? Scusa, se io non c'ho niente da fare tutto il giorno, quindi mi metto lì, mi metterò avanti l'arco. Ma quello è vero? Perché sono nulla facente. Ma anche quello è vero. Come dire, ah Feo, ho sottratto il lavoro, sono sfinito, figa, adesso metto su arc, devo farla pietroio, sto facendo 4.000 di ferro. Baffanculo. Dopo pranzo, fra l'altro. Sfacciate per l'educato. E da 7 di ferro, dammi sti 7 di ferro. No, è velocissimo lo spiro, non l'aspettavo. Non mi aspettavo così veloce. No, no, fuori dall'acqua. Mi sta dietro la risultata, il T-Rex porello prima di raggiungerlo. Ma perché era in acqua e è idratato adesso. Occhio che il T-Rex-Nosalolo lo attacca. Ma mi sa di no, non se l'è cagato. Ah, invece sì, lo stai seguendo. Cioè, pure Carnotauro, Carnotauro però non dovrebbe rompergli più di tante le balle. Oh no, il Carnotauro lo attacca pure il Carnotauro. Ah, pure in cara, lo faccio venire qui in acqua così almeno si dà. una potenziata. Vabbè, io non ce l'avevo la pozza. E fallo attaccare. Ecco. Ecco, dove ho una bestia. Lì. Bravo, spin. Oh, è volata, è volata. La cacca. Uh, guarda la regentazione bianco, che bello. E vai a prenderla carne, maledetto. Ah, se ce l'è bianco? Ne vorrei venire un bianco. Tutto bianco con le piume e la fine rosse. Sia il maschio che la femmina, invece, c'erano le piume e nere. Oh, mica, quel Carnotauro fa 50 di danno, un figa. Che livello è? Al 77? Senti, diamogli una mano, lo spino. Un dubbio. Eh, ho tolto il fuocamico, eh, perché c'era il fuocamico, l'ho notato. Ma c'era il fuocamico? Uh-huh. Ora non più. Ma ci si è messo pure l'argentavis, adesso. È che l'argentavis ha preso il cadavere, appunto, a quello. Muorici. Inizia il ballo. Nel giro, giro tondo. Ah, sono due argentavis, non uno, ben due. Uno c'è morto. Via, muorici. Bene. Oh, povero spino. Eh, che cavolo, ho preso adesso, già tutti ce l'hanno con lui. Che cattive persone. Vieni, vieni, va. Ok, ci dovremmo essere a casa. Eccoci qua. Stai dedicando per il parcheggio, praticamente, sì. No, attacca quel dilo. Allora, Dioia vuole che se gli metto questo qui. E quindi... Quello me lo vuoi attaccare, cortesemente. Quanto scende? Minchia, quanta vita c'ha quel dilo Fosaro che resiste ancora. Ok. Ah. Oh, lo mettiamo qui. Cosa faccio? Lo metti in acqua? Eh, appuzzangarati. Eh, no, perché dopo i piccolioni piragni li vanno a rompere le balle, sai? Vabbè, se l'acqua è bassa, quello zampo è molto... Se no, metti il guinzaglio piccolo. No, no, ma ce l'ho il guinzaglio, perché ce l'ho già dentro l'acqua. Però ho capito pure che dopo i piragni li vanno a rompere le balle. Se adesso non muore, perché si schianta nelle fine della casa. Ma tecnicamente lui non ha il problema dell'allegatore, perché lui si alza sulle zampo posteriori. Yeee, bagnetto! L'ascensore è automatico, che bello. Fischiamo di star fermo. Però non ha preso ancora il guinzaglio. Quanto posto gli preso l'ascensore? Non me lo dice. Vieni di qua. Cioè, veramente è più grosso lui del lago. Ciao. Come stai? Ma che bei dentini che c'hai! Ma quanto sei bellino un potettone! Ok, bene. Adesso gli assigniamo i livelli e poi chiudiamo. La scelta dell'orlore è quando guardi dietro e ti segue lo spinosovo. Perché poi è velocissimo, eh. Qualcosa di assurdo. Bene. Allora. Fatto questo, direi di chiudere. Questa cosa si va adesso su ARK. Praticamente allora era partito tutto. Vinco con faccio vedere come sono arrivato quando non ho fatto le live su ARK. E poi niente, è capitato uno spino e mi sono preso uno spino. Fondamentalmente l'ho trovato e gli ho detto perché no in fondo. Adesso tipo i flinstone ci salgo sopra. Allora, ragazzuoli, direi di chiudere qui la live. Eh sì, l'ho arrivata, ho iniziato alle quattro, basta. Sono quasi, sono due ore e passa, troppo. Intanto ci metti a letto, riposati e via. Fa un po' ti dà una squilinguazzata lo spino. Allora, ragazzuoli. Intanto Fè, grazie alla compagnia torno adesso. No problemi. Grazie mille, pezzino. Io vado a vedere Mask. A dopo. A dopo. Allora, ragazzi, prossimo appuntamento in live domani. Domani dalle 5 e 3 quarti, come sempre, domani su ARK. Domani facciamo su ARK, vediamo di espandere la base. Cioè perlomeno almeno le mura, perché come avete visto iniziava ad essere un po' troppo stretti. Quindi magari allarghiamo un po', facciamo un po' di materiali e adesso vedo bene cosa fare. E anche perché alla fine oggi abbiamo preso lo spino, oggi così casualmente, quindi è andata bene così. Ricordo che il server in cui gioco è aperto a tutti, è il mio server che ho messo a disposizione per la community. Chi si vuole unire, ragazzi, trovate tutte le info su Discord, sul mio server Discord. Quindi se fate appunto esclamativo Discord alla chat, viene fuori il link d'invito, vi potete unire e giocate con me e con gli altri tranquillamente senza problemi. Detto questo, quindi domani segnatelo ARK, perché l'ho già programmato, adesso lo sapete. Domani si gioca ad ARK in live. E ovviamente se volete continuare a seguirmi nella serie, in questa serie su ARK, oltre anche che per le stream su War Thunder, che torneranno di Company of Heroes 3 quando uscirà, e vi dicendo anche per altri giochi, di cui anche Arma 3 che adesso riprenderemo, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, quindi cliccate su un caricino e iscrivetevi per continuare a seguirmi in altre live. Ricordo che per supportare il canale potete o condividere la stream, quindi suggerire il mio canale e i vostri amici, così da aumentare la nostra community, darmi una mano a crescere, oppure potete fare una sub al mio canale, con Amazon Prime lo potete fare in modo gratuito. Essere sub al mio canale significa niente pubblicità durante le mie stream, è molto personalizzata per soli sub, sezione privata su Discord per i soli sub, dove c'è il calendario, dove saprete in anticipo quando vado in live, cosa porto e vi dicendo, e in più i vantaggi all'interno dei server della community, tra cui su Arma 3 ci saranno dei ruoli che saranno per i sub, che poi work in progress, mentre su Arc ci sarà il pacchetto di benvenuto, che quando entrerete vi daremo dei materiali e un primo dinosaurio per iniziare la grande, ok? Detto questo, quindi ringrazio tutti i nuovi follower, tutti i nuovi sub e sub, ovviamente ringrazio il mio editor come sempre per un ottimo lavoro, e voi in chat grazie a mia compagnia, e soprattutto Fè per la compagnia che ha fatto con Company e con Arc. Quindi noi ci vediamo domani per una nuova live, bella ragazzi, bella lì, buona serata a tutti e buona cena. Ciao ragazzi! Hua!